Aggressivi, insicuri, alcol o tossicodipendenti. E la fotografia dei ragazzi del terzo millennio scattata da Giacomo Balzano nel libro edito da Franco Angeli, Oltre il disagio giovanile. Emerge un grandissimo disagio, come si saprà. Molti ragazzi assumono psicofanici, molti ragazzi si suicidano purtroppo, molti ragazzi abbandonano la scuola. Insomma, è una situazione giovanile molto complicata. Il libro è stato presentato nell'ambito di book show organizzato dalla Commissione Cultura di Bari nel foyer del Teatro Petruzzelli. All'incontro hanno partecipato Don Ciccio Savino, rettore del Santuario dei Santissimi Medici di Bitonto, Giovanni Lacoppola, dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale e il professor Antonio Di Tolo della Facoltà di Scienze della Formazione di Foggia. La cultura vigente ha una sua responsabilità, soprattutto nel fatto che non elabora degli adeguati provvedimenti per originare appunto questo diffuso disagio che sta assumendo proprio i connotati di una sorta di epidemia psicosociale. In effetti stanno aumentando le strutture di personalità molto problematiche come i borderline e i narcisisti. Vediamo che non c'è niente sul piano sociale per originare appunto tutto questo sfacelo.